Roma, dal prossimo 2 maggio per entrare nel Pantheon a Roma bisognerà pagare un biglietto di 2 euro. Saranno esentati quanti parteciperanno alle messe che solitamente si svolgono il sabato e la domenica. Il nuovo ticket è frutto di un accordo tra il Ministero dei Beni Culturali e il Vicariato. A firmarlo sono stati il ministro Dario Franceschini e Monsignor Angelo De Donatis. I proventi del biglietto andranno al Mibact che li utilizzerà per valorizzare il monumento, tutelarlo per la manutenzione e per renderlo più sicuro durante le visite. E critico il vice sindaco di Roma Luca Bergamo, nonché assessore alla cultura, il quale ha già preannunciato che chiederà la revoca del ticket al governo che uscirà dalle prossime elezioni. È un momento triste, prodotto dall'idea che il godimento dell'arte, spiega Bergamo, sia principalmente ad appannaggio del turismo invece che veicolo per la formazione delle persone e del loro benessere. Ma per l'ennesima volta l'assessore Capitolino denuncia che il governo adotta decisioni che hanno impatto sulla vita della capitale senza cercare un accordo con chi l'amministra. Mi auguro che il ministero, aggiunge, abbia pensato ad accantonare fondi da trasferire a Roma per coprire i costi delle misure aggiuntive di vigilanza urbana e polizia amministrativa che necessariamente deriveranno dalla formazione di code sulla piazza. Il vice sindaco ricorda che anche nel caso del Pantheon erano state avanzate ipotesi alternative che non sono state discusse. Bergamo chiede chiarezza, è necessario capire una volta per tutte il confine tra tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e tra competenze dello Stato e della capitale e definisce l'attuale situazione un guado che per il bene di Roma e del paese deve essere superato, la capitale deve avere poteri e mezzi corrispondenti alle responsabilità che le sono conferite. Oggi non è così.